Ho un bel po' di tempo dall'uscita di Five Nights at Mouses 4, è uscito finalmente Five Nights at Mouses 5, il quinto capitolo della mia serie di videogiochi. Praticamente vorrò fare circa 12 Five Nights at Mouses, perché 6 mi pagano un po' pochi. Quindi questo qua è Five Nights at Mouses 5, che è a metà della serie, siamo già a metà, vi avevo già fatto vedere un video in dove lo provavo, cioè l'ho fatto io, vi avevo già fatto vedere un video, che però quella era la demo, e finalmente è uscito. Amma mia, Trevor, quello là è Spring Trevor. Se volete la seconda parte della vera storia di Five Nights at Mouses, chiedete, perché a me piace veramente tanto fare i giochi. Mamma mia, Spring Trevor, si capisce che l'ho fatto io, ne? Già. Oddio, la maschera, la maschera! Va bene. Ragazzi, ragazzi. Vediamo un po' le telecamere. Oddio, che spring me ne sta venendo. Vediamo un po'. Proviamo veramente, perché, oh mio Dio, devo mettermi la maschera. Non ce l'ho fatta di tempo. Ragazzi, finalmente è uscito, naturalmente ci sono un po' di cose da sistemare, però comunque mi è venuto abbastanza bene. Per il momento di soltanto una notte, questo è il primo aggiornamento, credo che lo aggiornerò. Bene. Intanto, lo aggiornerò ogni settimana, più o meno per il momento. Uscirò un nuovo aggiornamento e sto cominciando a lavorare a Five Nights at Mouses 6. Quindi perché Five Nights at Mouses 6 sarà speciale, cioè sarà diverso dagli altri maledizioni alla maschera, dagli altri Five Nights at Mouses maledizioni. Ma, Spring Traveler, ma, dove siamo? Spring Traveler, scusatemi ragazzuoli. Comunque, comunque, uscirà tra poco il terzo episodio di Minecraft. Spero che questa sera vi sia piaciuto e ho creato una cosa. L'ho fatta off camera adesso, ma Spring Traveler, scusami. Allora, la maschera. Ok. La maschera è il protagonista dei miei giochi. Spero che vi piacciono i miei giochi. Io ci metto veramente tanto a farli. Soprattutto perché, cioè, fatelo voi, un gioco. Vi voglio vedere. La maschera, la maschera, la maschera. Ok. Ce l'ho fatta proprio in tempo in tempo. Proprio a pelo. Va bene, ragazzi. Questo qua era il mio gioco. Cioè, il mio quinto gioco. In realtà hanno fatto tanti altri che però non sono Five Nights at Mouses. Io volevo provare a fare altri tipi di gioco oltre a Five Nights at Mouses. Volevo provare, però... Niente, io sono portato per fare giochi di FNAF. Come FNAF. Quindi, ragazzi, se volete che vi porto un gameplay completo, scrivetelo sotto nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ragazzi, noi ci vediamo. Ciao!